buona giornata amici di fano tv oggi è mercoledì 11 gennaio 2023 e questa è la rassegna stampa con la quale iniziamo le trasmissioni della giornata con una buona lettura dei giornali come sempre abbiamo nella nostra scrivania e l'arresto del carlino ed il corriere adriatico passiamo come sempre con l'almanacco del giorno e vediamo che cosa festeggia oggi la chiesa cattolica il santo bambino di praga il santo bambino di praga il bambino gesù era figurato in una statua linea coperta di cera colorata nella chiesa di santa maria della vittoria a praga secondo la leggenda fu realizzata da un autore sconosciuto su richiesta di un frate a cui apparve gesù in sembianza di bambino ovviamente non si venera non si adora la statua si adora la persona che era figurata ovvero il bambino gesù santo bambino di praga le previsioni del tempo oggi sulle marche c'è un tempo stabile il cielo è sereno in provincia di pesaro urbino splende questa mattina una bella luna comunque già iniziano gli albori i chiarori dell'alba a tempo stabile sulle marche con nubi medio alti in avanzamento da ovest temperature minime in netto calo le massime in lievo rialzo le temperature si aggireranno dai 3 gradi le minime appunto sono abbassate oggi rispetto ai giorni scorsi le massime 12 gradi i venti sulle coste spireranno da ovest nord ovest nell'interno invece dal sud ovest le temperature come abbiamo visto sono in calo il mare è mosso ebbene ora apriamo le pagine dei giornali a partire dal corriere adriatico la pagina di fano ed ecco il titolo di apertura piano mobilità sostenibile il cosiddetto PUMS piano mobilità urbano sostenibile svolto un quinto del lavoro sì il piano è in ritardo è in grosso ritardo doveva essere pronto doveva essere operativo prima della fine del 2021 siamo nel 2023 ed è stato fatto poca cosa tant'è che l'importo dovuto alla società sintagma che doveva appunto realizzare il piano è stato trasferito dal bilancio dell'anno scorso a bilancio del 2023 si tratta di 54 mila euro iva incluse ormai a quasi due anni dal conferimento dell'incarico di redigerlo appunto questa società la società perugina non ha nemmeno fatto sapere quando consegnerà il progetto siamo veramente in ritardo il PUMS doveva essere un fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale improntata soprattutto a favorire la mobilità pedonale ciclabile rispetto a quella motorizzata comunque al momento siamo ancora in molto ritardo di questo che evidenzia oggi il corriere adriatico con questo articolo firmato da Andrea Ammaduzzi invece vediamo qui la fotografia di Gianluca Ilari capogruppo della Lega in Consiglio Comunale che evidenzia come la Lega chieda il recupero dell'arteria a Centinarola qual è l'arteria è una strada connessa alla lottizzazione prevista appunto a Centinarola prima delle quattro sedute della commissione urbanistica dedicate al piano regolatore generale che ormai è in dirittura d'arrivo sparisce dall'orizzonte la strada che a Centinarola dovrebbe mettere in sicurezza il collegamento tra via Brigata Messina e via Tolmino una strada importante a sollevare il caso il capogruppo appunto della Lega Gianluca Ilari che parla di evoluzione allarmante per tutti i cittadini del quartiere unanime infatti si era levata la richiesta di rendere più sicuro quel tratto di via Brigata Messina che dalla chiesa vecchia di Centinarola va verso Fenile muovendo dal dato che quel segmento di strada è molto stretto e le auto sono costrette a fermarsi per permettere a chi sopraggiunge dalla parte opposta di passare insomma questa strada era importante invece viene cancellata. La seconda apertura del Corriere Adriatico questa mattina si riferisce ai matrimoni ai matrimoni civili e ai matrimoni religiosi un dato significativo sono in grosso aumento i matrimoni civili rispetto a quelli religiosi. Ormai la celebrazione dei matrimoni civili ha superato abbondantemente quelli religiosi. Nell'anno appena terminato nel 2022 nel comune di Fano sono stati celebrati 112 matrimoni civili e solo 56 ovvero la metà di matrimoni religiosi rispetto al 2021 in cui i matrimoni civili erano stati 93 e quelli religiosi 57 quindi da 93 si è passati a 112 insomma c'è un importante aumento. E cosa fa l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale ha già dato la possibilità di svolgere questi matrimoni non solo nella Sala della Concordia che è appunto il punto deputato in cui si svolgevano questi riti anche in altri posti, posti belli, posti suggestivi, la Chiesa di San Francesco, il Teatro della Fortuna ma ora accoglie anche le richieste dei privati. Per esempio è stata accolta quella della Villa Giulia, un resort che è sulle pendici collinari di Gimarra e che è una casa, un edificio napoleonico risale appunto all'epoca napoleonica intorno al XIX secolo, i primi del XIX secolo e vediamo che ci sono altre possibilità e per questo l'amministrazione comunale ha istituito un secondo registro perché ci sono poi dei matrimoni che si svolgono contemporaneamente nello stesso giorno e nella stessa ora. Il registro è sempre quello che gira, questa volta c'è stato un secondo registro originale istituito tramite una delibera appunto dell'amministrazione comunale. In questo secondo articolo vediamo invece come importanti edifici hanno usufruito del bonus facciate come il Palazzo Malatestiano che è di proprietà della fondazione Cassa di Risparmio di Fano e Palazzo Gabuccini, Palazzo Gabuccini che è di proprietà privata, comunque è un importante palazzo nel centro storico, apparteneva ad una famiglia di conti molto molto importante nei secoli passati, aveva ospitato anche Re Giacomo III Stuart che era un pretendente al trono dell'Inghilterra e ora viene tutto ingabbiato, anzi da tempo è ingabbiato per il restauro della facciata. Si valorizza così anche il Palazzo Malatestiano dopo il progetto, diciamo così, la costruzione che è stata fatta da Calzabini nella prima metà del secolo scorso. Altri articoli che riguardano Fano abbiamo un intervento di Stefano Pollegioni dell'Udc per quanto riguarda l'insicurezza della città, un tema preferito da questo esponente politico. Battaglia del Metauro, a Monte Aguzzo, così lo hanno identificato i liceali di Fossombrone, i quali appartenenti all'Istituto Baldi Laurana hanno vinto il primo premio della Camera di Commercio per le storie di alternanza. Hanno fatto una ricerca, una ricerca non per quanto riguarda le fonti storiche ma per quanto riguarda i segni lasciati nel terreno, la configurazione del paesaggio e in base a questa hanno identificato il luogo, ovviamente secondo loro, ma l'avvallo importante è stato quello del professor Oscar May che è il insegnante, il docente di archeologia dell'Università di Urbino impegnato, come sappiamo, negli scavi nella città di Cirene in Libia. Hanno identificato il sito della Battaglia del Metauro a Monte Aguzzo e hanno ottenuto questo importante premio. I ricercatori universitari urbinati e spagnoli, c'è anche una collaborazione della Spagna, si sono basati sui reperti archeologici del territorio e non appunto sulle fonti come è stato fatto fino adesso. Un fatto di cronaca è accaduto a Mondolfo, gli strappano la collanina d'Oro era in discoteca, tre persone giunte dall'Anconetano sono state denunciate, tre denunce, colpo in discoteca. Vittima un ragazzo di 18 anni di Mondolfo, nei guai appunto tre giovani della provincia di Ancona, indagini Lampo. Anche in questo caso sono state importanti le telecamere che hanno consentito agli inquirenti di individuare. I tre che avevano rubato questa collanina avevano intimato anche alla propria vittima di non sporgere denuncia, l'hanno minacciato eccetera. Però questo ragazzo è stato coraggioso, si è rivolto appunto alla polizia e i tre sono stati individuati e poi arrestati. Cassonetti intelligenti? Beh, la gestione fa acqua. A San Costanzo c'è un esperimento dell'ASET per poi replicarlo in tutto il territorio. Sono i cassonetti intelligenti, quelli che sono fruibili tramite una scheda, una scheda che segnala la quantità dei rifiuti che vengono consegnati, appunto, che vengono depositati nel contenitore e in base a questi poi viene applicata la bolletta, la tariffa. In realtà qualcuno non riesce a utilizzarli queste schede e quindi abbandona i rifiuti all'esterno e qui vediamo una significativa fotografia dove vediamo il cassonetto qui, però i rifiuti non sono dentro ma sono fuori. E beh, occorrerà fare qualche correttivo oppure educare la popolazione in modo che sappia gestirsi al meglio in base a questa novità. Vediamo anche la pagina di Senigallia che parla della piscina, di una piscina, la piscina delle saline, che ha avuto un crollo del soffitto determinato, secondo l'assessore ai lavori pubblici, dall'aumento di peso dovuto all'umidità. Probabilmente era un'umidità molto pesante quella che ha determinato il crollo del controsoffitto, appunto lo vediamo qui in questa fotografia della piscina. Un avviso importante a seguito di un'improvvisa problematica, dice questo cartello, verificatosi all'interno dell'impianto di piscina saline resterà chiuso al pubblico. La riapertura sarà prontamente comunicata appena sarà ripristinata l'agibilità. Ancora non c'è una data per la riapertura dell'impianto. E vediamo anche la pagina regionale dove il Corriere Adriatico evidenzia l'arrivo della Ocean Viking nel porto di Ancona, carica di immigrati. Immigrati in salvo restano tutti da noi. Approdati ieri i primi 37 profughi, tra cui 12 minorenni. La dottoressa a bordo, onde alte 6 metri, sofferenza inutile. Ebbene c'erano ragazzi anche al di sotto di 14 anni che sono giunti nel porto di Ancona veramente stremati, tanto che qualcuno ha dovuto essere sollevato con delle flebo per ripristinargli le forze. Hanno passato veramente dei momenti molto molto brutti. C'è un racconto che viene fatto da un immigrato su questa seconda pagina, un eritreo di 21 anni, segregato e torturato. Ok, eritreo di 21 anni nel viaggio d'inferno a bordo della Geoparents. In Libia ho subito maltrattamenti e umiliazioni. Non vedo l'ora di arrivare in Italia. Molti di questi immigrati vengono sequestrati perché poi possano i rapitori chiedere del riscatto alle loro famiglie. E nel momento in cui vengono segregati, in cui vengono imprigionati, vengono fatti oggetto di tanti tanti maltrattamenti, bastonate, umiliazioni, privazioni degli elementi di sussistenza. Insomma, veramente una odissea terribile, drammatica, passata non solo appunto da questo ragazzo ma da tanti altri immigrati che giungono nel nostro territorio. La nostra Lampedusa sulla rotta dei Balcani fino al 2018 alla frontiera di Ancona venivano intercettati 2.500 clandestini. L'anno c'era chi moriva, grappato alle ruote di un tir, chi ha sfissiato nella stiva di un traghetto dalla Grecia. E qui c'è un resoconto anche dei trascorsi, perché non è la prima volta che Ancona offre rifugio a coloro che vengono in Italia. E passiamo a Pesaro e vediamo il volto del nuovo prefetto. Si tratta di Emanuela Saveria, Greco. Eccola qui in questa fotografia. Ieri si è presentata alla stampa, ha convocato una conferenza e si è presentata e ha delineata quale saranno i punti base della propria gestione. Massima attenzione ai reati predatori, lotta ai furli e alle antenne alzate su violenza di genere e baby gang. Emanuela Saveria, Greco, il nuovo prefetto di Pesaro Urbino. E ieri, con il vice prefetto Antonio Angeloni, ha tenuto una conferenza stampa di insediamento. Succede, come sappiamo, a Tommaso Ricciardi, che è andato in pensione e che ha svolto il suo incarico fino alla fine, proprio degli ultimi giorni. È stato sempre sulla breccia prima di andare in pensione. Sono molto felice di essere in questa città, ha detto la nuova prefetta, no, prefetto diciamo, il nuovo prefetto. Sono molto felice di essere in questa città. Pesaro Urbino è una provincia tenuta in grande considerazione dal Ministero ed è una nomina che mi gratifica. Sono qui con entusiasmo per sfolgere al meglio l'incarico. Mi avevano detto, questo è importante, quest'ultima frase, mi avevano detto i colleghi che sarei arrivata nella sede di prefettura più bella d'Italia. Posso solo confermare. Ebbè, anche se questo è un captazio benevolenze del prefetto, diciamo, siamo grati di questa attestazione di simpatia perché, insomma, è il miglior modo per cominciare. Il nostro territorio è veramente bello. Allora, passiamo alle altre notizie. C'è una università, non è quella di Urbino, è interessata all'acquisto di Palazzo Bramante a Pesaro, pronti ad acquisire l'ex Bramante per i corsi universitari di medicina. Mearelli, amministratore delegato dell'Ateneo Link, questo è il nome appunto dell'Università, Link, scopre le carte, ma ha un cruccio il silenzio del comune. Si tratta dell'Università di Studi Link, Ateneo privato, con sedi a Roma e a Napoli, interessato ad acquisire il complesso per ospitare le sue proposte, il complesso appunto del Bramante, per ospitare i corsi di medicina e chirurgia e scienze della formazione primaria. Questo è un po' il disegno, il progetto di questo Ateneo. Il comune è latita, vediamo se poi accetterà questa proposta, perché insomma è una proposta interessante per dare un nuovo ruolo, una nuova funzione a questo grande stabile, a questo grande edificio che è alle porte del centro storico di Pesaro. E poi il Corriere Adriatico parla di questa bella ragazza, eccola qua. La vediamo in questa fotografia, si tratta di Stefania Santoro, ha 25 anni ed è una pesarese che vive negli Stati Uniti come coordinatrice alla Trusted Health. Io, donna in carriera negli Stati Uniti con l'app, trovo lavoro agli infermieri. Pensate, è una ragazza che trova il lavoro a coloro che si impegnano nella sanità. Lei infatti è care coordinator della start-up milionaria Trusted Health. E mentre in Italia a 25 anni c'è che annaspa un po' tra contratti precari, stage camuffati, impieghi mal retribuiti, lavoro nero o disoccupazione per quanto riguarda appunto gli infermieri degli Stati Uniti. C'è una ragazza della nostra provincia, appunto di Pesaro Urbino, che trova facilmente il lavoro a tutti coloro che vogliono impegnarsi nella sanità. È interessante leggere quest'articolo per vedere come funzionano le cose in altre località. Vediamo anche la pagina di Urbino dove c'è un articolo che riguarda il turismo. Dimezzate le aperture IAT, stop all'aiuto della Proloco. La Regione ha rinunciato all'aiuto dei volontari della Proloco per gestire gli uffici informazione della città di Urbino. Ora appunto questo servizio viene dimezzato. La Regione non rinnova l'accordo per le informazioni turistiche anche nei giorni festivi. I giorni più importanti dove c'è un maggior afflusso turistico, i turisti avrebbero bisogno appunto di informazioni sia per gli orari, le aperture dei luoghi. Infatti a Urbino non c'è da visitare soltanto Palazzo Ducale. Ci sono molte, molte attrazioni turistiche le cui informazioni sono importanti. Ed ora diamo un'occhiata anche al resto del calino. Sulla pagina di Fano abbiamo una intervista a Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi rispolvera il dossier Lisippo. Vittorio Sgarbi è uno che conosce bene il nostro territorio. A Fano è stato più volte, è stato anche, ha occupato un ruolo politico anche nella città di Urbino, quindi conosce benissimo la questione dell'Isippo. Ed ora occupando un ruolo nel governo ha avuto l'intenzione, almeno l'iniziativa la prenderà, di prendere contatti diplomatici con l'America per la restituzione dell'Isippo. Cosa che durante il ministero del precedente ministro Franceschini, cosa che non c'è stata perché Franceschini si è disinteressato completamente dell'Isippo. Cosa che invece non aveva fatto il suo precedente ministro che aveva cercato di intavolare un rapporto diplomatico con l'America. Vediamo quali sono le intenzioni di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario della cultura è intenzionato a chiedere la restituzione dell'opera trafugata, magari cominciamo con un prestito, però insomma il progetto è quello di averla definitivamente in Italia. L'atleta di Fano dal 1977, lo sappiamo, è esposto al Getty Museum di Malibu ed è tra le opere su cui il sottosegretario Sgarbi intende lavorare per cercare di farla rientrare in Italia. Un impegno che viene ora dichiarato e vediamo che insomma si tratta, ha detto, di un'opera d'arte importante. Sarà necessario mettere in piedi un'operazione diplomatica con il Getty Museum e aprire con loro una interlocuzione. Insomma si cerca di battere i canali diplomatici perché visto che quelli della giustizia ormai non hanno, non dico che non funzionano, in questo momento sono in stand by, bisogna percorrere anche altre vie e quella diplomatica è la via maestra. Anche sul resto del calino si parla del fatto di cronaca che è accaduto nella discoteca dove un giovane di Mondolfo è stato privato della catenina. Era stata usata la stessa tecnica di Corinaldo, dice appunto qui il resto del calino. E poi si parla di un incidente stradale che ieri ha causato lunghe code sulla superstrada Fan Urbino. Un'auto finisce contro il guardrail, un chilometro di coda in superstrada. È successo ieri mattina intorno alle 7.45, nel momento di massimo traffico, la gente si spostava per andare al lavoro. Sul posto è giunta la polizia stradale, illeso il conducente. Comunque i disagi non sono mancati, un chilometro di coda appunto si è verificata, disagi e ritardi all'ora di punta per l'incidente. L'autista ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro il guardrail. E il cassonetto è intelligente intorno a una sacchettopoli. Il titolo che appare sul resto del calino, la stessa fotografia che era sul Corriere Adriatico, per evidenziare come la gente che non sa usare i cassonetti, cosa fa? È molto una soluzione sbrigativa, prende e li abbandona appunto per terra nei pressi dei cassonetti. Insomma, questo è un modo molto barbaro per risolvere il problema. E ora invece parliamo di Urbino e della protesta per la soppressione della diocesi. Questo è un articolo molto molto duro che si riferisce alla reazione degli esponenti politici. Il sindaco di Urbino ha già preso l'iniziativa di convocare tutti i suoi colleghi dei comuni che fanno parte della diocesi, diocesi privata dal Vescovo perché accorpata a quella di Pesaro, mentre il consigliere regionale Giacomo Rossi dice e ora diciamo no all'otto per mille alla chiesa. È una reazione importante quella per io non andrò all'insediamento di Salvucci dice appunto Giacomo Rossi. C'è una reazione piuttosto determinata, piuttosto importante in difesa delle istanze della cittadinanza di Urbino ma anche quella degli altri comuni, Urbania e poi tutti quelli che si dilungano sulla valle del Metauro verso le colline per la soppressione di questa importante istituzione e qui si vede come la gente tiene ad avere un Vescovo proprio, un pastore che possa essere presente tutti i giorni nel territorio. Questo è appunto la pagina di Urbino. Vediamo anche la pagina di Pesaro del resto del Carlino. Si parla del Cavalca Ferrovia, ormai è una struttura che ricorre abbondantemente nella stampa. Cavalca Ferrovia, il cantiere può ripartire almeno un anno di lavori per quasi 3 milioni di euro. A vincere la gara è stata la Brandi Egidio Costruzioni. L'assessore Pozzi, intervento complesso, si dovrà limitare il passaggio dei treni sotto appunto il Cavalca Ferrovia all'Ufficio Opere Pubbliche del Comune di Pesaro hanno affrontato appunto la gara per il completamento dei lavori. Al Cavalca Ferrovia, con le dita incrociate, il sorteggio tra dieci delle ben 183 ditte che avevano presentato la manifestazione di interesse, aveva visto coinvolte quattro aziende pesaresi. Ebbene, le risorse sono quelle dei fondi del Ministero dell'Interno, ora transitati nell'ambito del PNRR. Questa grande cassa piena di soldi, questa grande cassa e cassaforte che viene presa piena di soldi, che viene appunto distribuita in diversi progetti. Vediamo anche altri articoli, altre pagine sul resto del Carlino e qua vediamo l'articolo che riguarda il nuovo insediamento del prefetto Emanuela Saveria Greco. Per loro sarò sempre a disposizione per chi ha più bisogno, dice il prefetto. Nessuna retorica, voglio restituire alla collettività ciò che da essa ho ricevuto, ha detto. Ed è una signora che ha una lunga carriera diplomatica e aveva compiuto studi di diritto, si è impegnata appunto nelle prefetture, è stata anche vice prefetto ed ora dopo aver così gestito delle realtà molto più problematiche di quella di Pesaro, è molto contenta di restare in un posto piuttosto tranquillo, ha detto, come la nostra provincia. Lockdown, che fino ha fatto le multe, siamo da record, le ha pagate solo l'8%. Ricordate le sanzioni di chi violava le regole ai tempi delle zone rosse, chi usciva senza permesso, quella volta c'era l'ordinanza, c'era un coprifuoco appunto di restare in casa per non alimentare il contagio del Covid, ebbene in provincia uno dei dati più bassi d'Italia. L'avvocatessa dei Novax ha detto giusto così, ma occhio, perché l'iter amministrativo va avanti e poi prima o poi il conto arriverà. Per il momento ha pagato solo l'8%, ma si teme che poi la briscola arriverà, anche se la giustizia ha tempi molto molto lenti. Vediamo un ultimo articolo. Bollette dalla Regione, solo spiccioli, in 150 mila si dividono 9 mila euro. L'assessore ai servizi sociali Pandolfi, Luca Pandolfi, dice stiamo facendo i conteggi. Siamo sui 14 euro al mese a famiglia. Solo il mio comune, per rispondere al bisogno di 322 domande, ha erogato 187 mila, quasi 188 mila euro nel 2022. E questo è un po' un conteggio che vede come le risorse sono insufficienti per rispondere a tutte le domande. E questa era l'ultima notizia. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7 e vi invita ad assistere al Tg di Fano TV, Occhio alla Notizia, questa sera alle ore 20 e 30. Grazie per l'ascolto, a risentirci.